Antonio, come va? Buonasera, buonasera, aspettiamo che arrivi Mimmo, il grande Mimmo, il grande Mimmo, qua siamo tutti con lui, a Barapoglio, a Barapoglio, la piazza, guardate, sì, 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 ci siamo tutti, c'è la Clara, c'è il Peppe, c'è la Clara, c'è il Peppe, buonasera, salve, potete stare a casa, c'è la compagna di Peppe, c'è tanta gente, buonasera, buonasera a tutti, c'è Malta, c'è Donatella, un saluto, Ci sono tutti, ci sono tutti, c'è Luca, Mimmo, Mimmo, Crida Mimmo, Mimmo Crollate, ecco qua, vediamo Walter, buonasera, i cugini turchi, i cugini di campagna, buonasera, ci sono io, non penso mai, Antonio, il tue non l'ha portato, c'è Rocco, 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 Gelco, Rocco, 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 c'è Francesco, buonasera Francesco, saluta, saluta Chiara con un bacino, un bacino a Chiara alla tua famiglia fuori a capo, comunque vediamo Ciccio che ride, ci siamo tutti, quello si spacca Gianluca fammi un sorriso, blin blin, dai, blin blin, ora un saluto che ora andiamo a ballare Ci vediamo dopo, ciao Rocco, a Peppinelo, a Peppinelo, ciao Oh Peppinelo, è come di bozza va, oh Peppinelo, è come di bozza va